2, 1, let's go! E sono partiti! Il cronometro ha iniziato a scandire il tempo Vanno veloci, ma anche il tempo scorre veloce 10 secondi trascorsi 15 20 Signori, un applauso fortissimo! 25 30 35 Signori, un applauso più forte! Ci sono quasi! E sono 45 50 55 56 57 Eeeeeee! Complimenti! Fantastici sempre!